laia felix ecchici il videometro è troppo forte la sedia enorme sulla via francicela ci passiamo se lo conoscete ragazzi aspetta ti no no io ci sono state per una foto è carina però non so dove a che altezza non ci sono state per una foto che spettacolo questa discesa che ha da lì bella sfruttiamo non ci serve a niente per i calciatori non ci serve o non ci serve si aspetta chiede fai da arrivere tutti che picchi stiamo andando verso Calcata Per il trattamento con la corte è stato un trattamento di trattamento di giro 1 2 3 3 5 6 6 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.